Ciao. Ciao. Devo andare. Devi andare. Vuoi dirmi che sta succedendo? Cavolo, Jonas, sono giorni che ti cerco e tu non mi rispondi. Che cosa è stato per te? Ti volevi solo divertire. Hai pensato, quella è vulnerabile, mi approfitto di lei, è così. Insomma, di qualcosa. È stato un errore. Cosa è stato un errore? La cosa tra noi. Non era giusto. Per via di Bartosz. No, Bartosz non c'entra. È per noi. È che... Non stiamo bene insieme. Non stiamo bene insieme? Sì, non siamo compatibili. Tutto questo è sbagliato. Noi siamo sbagliati. Questo è sbagliato. Noi siamo sbagliati. Noi siamo sbagliati. Noi siamo sbagliati. Noi siamo sbagliati. Grazie a tutti.